Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale e soprattutto buon 2024 a tutti quanti ragazzuoli, spero che lo abbiate iniziato nel migliore dei modi e speriamo che oggi l'Inter ce lo faccia iniziare nel migliore dei modi ragazzuoli. Infatti torna nel live reaction, oggi Inter-Elas-Verona, partita alle 12.30, partita non facile, attenzione ragazzuoli perché soprattutto abbiamo chiuso il 2023, anno stupendo, però l'abbiamo chiuso con un pareggio a Genova, quindi abbiamo un po' il morale leggermente sotto i piedi ma proprio pochissimo per quel brutto pareggio a Genova che però ci stava nel complesso perché la squadra era stanca. Quindi oggi si torna a San Siro, cerchiamo di fare risultato, cara Inter, iniziare il 2024 nel migliore dei modi ragazzuoli e per iniziare nel migliore dei modi io chiedo a voi una piccola cosa e mi dilungherò un pochettino in questo primo video del 2024 ragazzuoli. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, fate iscrivere i vostri amici ragazzuoli perché ho un piccolo obiettivo e ve lo svelo, vorrei arrivare alla fine del 2024 ai 10.000 iscritti, manca pochissimo ai 6.000 quindi secondo me è un obiettivo assolutamente raggiungibile grazie al vostro supporto ragazzuoli. Poi vorrei anche arrivare ai 1.000 follower su Instagram, siamo a 890 quindi manca veramente pochissimo anche su Instagram per questo obiettivo, insomma sono due piccoli obiettivi che mi sono prefissato e che vi svelo perché ci tengo particolarmente a livello personale soprattutto e perché vedo che molto spesso i commenti sono positivi quindi vorrei cercare di ampliare la mia community per far passare i miei contenuti a più persone possibili perché vedo che vi piacciono anche soprattutto per la gente che purtroppo per un motivo o per un altro non può andare a San Siro e mi commenta spesso, io veramente sono contentissimo quando ricevo quel tipo di commenti che vi faccio vivere insomma le emozioni dello stadio, della curva e quindi è bello per questo e quindi per questo io vorrei arrivare insomma ai 10.000 iscritti che è un piccolo obiettivo personale per ampliare un pochettino la mia community e chiedo soprattutto l'aiuto a voi regalo sapete io non vi ho mai chiesto nulla di questo tipo però siccome è iniziato l'anno nuovo volevo dirvi questa piccola raccomandazione e questo mio piccolo obiettivo personale detto ciò ragazzuoli mi sono dilungato troppo non giuro promesso non ci sarà più una dilungazione del genere nelle prossime live reaction però mi sentivo di farlo in questa live reaction si va allo stadio adesso ragazzuoli forza inter iniziamo bene questo 2024 con una vittoria dai ragazzi ecco con il numero 19 il capitano Maldonzo Martino con il numero 19 Francesco con il numero 20 Alcance con il numero 22 Henrik con il numero 23 Nicolò con il numero 28 Benzoni con il numero 30 Carlo Augusto e con il numero 95 Alessandro Bastogli dai ragazzi eh cominciate dai raga bello bello dai dai siiii 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 Martínez! 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 Mamma che giocatore! Sarà per te di flambo, un giocatore che tira bonde a mano. Siamo tutti in piedi, è il nostro capitano. Batti le mani, che il campo c'è Lanzaro! Sì, Toro! Fine primo tempo, ragazzi. Bene così, bene così. Iniziamo! Dai, eh! Dai, dai, raga, dai col secondo! Bello! Bello! Go! Ehi, vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Fuori gioco, cazzo! Vabbè, giuro, fuori gioco, vabbè! Bello! Tira! Sì! Nooo! Mamma mia, giala, giala! Dai, raga, dobbiamo fare il secondo, però! No! Non ci credo! Nooo! Non ci credo! Nooo! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non l'abbiamo chiusa sta partita, ragazzi! colpa nostra non abbiamo chiuso la partita porca troia 3 ore a Gingischiara davanti alla porta 3.000 occasioni vengono giù una volta e ci fanno gol porca di bella puttana ma vaffanculo dai ragazzi dai cazzo dai non ci credo ma non ci credo l'ha levata lui l'ha levata lui dalla porta ma dai ma dai ma non ci credo ma Cristo ma Cristo l'ha levata lui dalla porta l'ha levata lui dalla porta l'ha levata Arnaut l'ha levata Arnaut dalla porta Tutti noi ce ne abbiamo i portieri di movimento Dai, stai, stai No, vabbè, no, vabbè Ma questo è tutto rincoglionito Ma questo è rincoglionito No, vabbè, ma io non ci credo Ma io non ci credo Ma che cazzo di pitone è? Ma, ma, ma dai, ragazzi Ma dai, oh 10 milioni, oh 10 milioni nel cesso Minchio, io non ci credo, ragazzi Ma io non ci credo Oh, va a fare il culo, guarda C'è No, no, no Va a fa' il culo No, no, no No, no, no Proteggi! 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 Proteggi Fisca, per favore, fisca! Sto morendo sto! Sto morendo! Fisca, cazzo! Dai, fila dentro con la ferma! Ma perché non ha tirato? Perché non ha tirato? Dai, io! Dica, facciamo un passaggio dentro un passaggio. È andato al bar, al meatro. Perché al bar? Io non ti ho caduto un cazzo. Ma per loro o per noi? Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Ricorda per loro! Ma io non ho parole, ma perché? No, vabbè ragazzi, io non ho parole. Io non ho parole. Io non ho parole. Ti prego, Sommer. Sommer, ti prego. Un miracolo, sbaglialo, Sommer, faralo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Io pensavo fosse entrata, palo, io pensavo fosse entrata, io pensavo fosse entrata, madonna grazie, grazie, fiscate da fine che non ce la faccio più, mamma non ce la faccio più, non ce la faccio più, rischia! 500, non, non ce la faccio più, non è ancora più, non ce la faccio più, resta Sì! 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 No! No! Mamma mia! Mi sembra di aver corso una maratona! Sì ragazzi! Mamma mia! Cosa abbiamo assistito? Su! C'è una del secondo! Come on, let's go!